Vi propongo un patto, un patto educativo, non l'ennesima riforma, non il solito discorso che propongono tutti i politici, adesso dobbiamo cambiare le regole, no, vi propongo una cosa diversa. Abbiamo un anno di tempo per rivoluzionare la scuola italiana, ma soprattutto per darle importanza, perché i politici di solito quando parlano di scuola la mettono in fondo al sacco, la mettono come una delle ultime ruote del carro. La scuola è quello che resta, prima c'è da rifare la pubblica amministrazione, riorganizzare il bilancio dello Stato, sistemare i vincoli economici, tutte cose importanti, ma è la scuola, la scuola, la scuola, la scuola, il cuore di tutto. Se noi saremo in grado nei prossimi 12 mesi di ripensare a come l'Italia investe sulla scuola, allora costruiremo la crescita dei prossimi 20 anni, allora costruiremo un'occasione di bellezza educativa per i nostri figli e anche per le famiglie, che spesso vedono nella scuola non più un luogo dove stare sicuri, ma un luogo di preoccupazione. Pochi discorsi, concretezza, ruolo degli insegnanti. Noi diciamo basta ai precari e alla supplentite, però bisogna anche avere il coraggio di dire che si devono giudicare gli insegnanti e gli scatti di stipendio devono essere sulla base del merito, non sulla base dell'anzianità. Due, gli argomenti, gli argomenti di discussione, i temi, quelli che quando ero piccolo io si dicevano i programmi. Una grande campagna di ascolto di due mesi, dal 15 settembre al 15 novembre, perché ogni studente ci dica insieme alla sua famiglia, ai suoi amici, alla sua associazione di che cosa vuole parlare nella scuola italiana. Una grande campagna di ascolto di due mesi, dal 15 settembre al 15 novembre, perché ogni studente ci dica insieme alla sua famiglia, ai suoi amici, alla sua associazione di che cosa vuole parlare nella scuola italiana. È giusto o no dedicare più alla storia dell'arte, alla musica, all'inglese, all'educazione fisica e motoria. Io credo di sì, ma sarà bellissimo ascoltare la voce di tutti, perché la scuola non è del Presidente del Consiglio, non è del Ministro, è ancora l'organizzazione gestionale, non soltanto investendo sulle nuove tecnologie e sulla digitalizzazione, ma anche consentendo ai presidi di essere davvero in grado di esercitare l'autonomia e i rapporti col territorio e l'offerta formativa. Quante sfide abbiamo davanti? Noi oggi proponiamo il rapporto sulla scuola italiana. Dal 15 settembre al 15 novembre la campagna di ascolto ci interessa l'opinione di tutti, nessuno si sente escluso. E poi con la legge di stabilità, cioè il bilancio dello Stato, mettiamo più soldi sulla scuola, perché mettere i soldi sulla scuola non è un costo, è un investimento per i nostri figli, per il nostro futuro, per l'Italia. Chi vuole bene all'Italia vuole bene alla scuola. Poi, a partire da gennaio, i provvedimenti normativi perché il 2015 sia l'anno in cui si inizia a fare sul serio. Ma non ripartendo come sempre da capo, provando a cambiare la nostra mente e mettendo la scuola al centro dello sviluppo dell'Italia che verrà. Non è una riforma, non è l'ennesima riforma della riforma. Si tratta semplicemente di provare a credere in noi stessi, cioè di credere nell'Italia, cioè di credere nella scuola. Vi chiedo allora un aiuto, una mano. I giorni che ci aspettano sono giorni meravigliosi, non buttiamoli via. Abbiamo il coraggio di provare insieme a disegnare la scuola che verrà. E forse, 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 anche così l'Italia tornerà ad essere custode della straordinaria bellezza che ha. Grazie a tutti.